Eccoci in diretta, siamo in diretta, i nostri ospiti li vedete, Mauro Del Vue, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Diego, parliamo di questa sinistra oggi, di questo libro, ma andando oltre il libro anche, perché il libro è un fonte di riflessioni che diventano sempre più attuali, è mano a mano che passa il tempo. Diego, lascia a te introdurre la discussione, visto che tu sei quello che conosce meglio anche per appartenenza ovviamente la storia. Sì, abbiamo invitato Mauro Del Vue appunto per discutere di questo suo ultimo lavoro. che è un libro molto interessante e per partire, insomma, partirei dalla massima, no? Che tre ebrei saluti a un tavolo sono tre linee teologiche, tre socialisti saluti a un tavolo sono cinque emozioni, no? E questo è un po' il riassunto di questa escursione di quasi cent'anni nella storia del socialismo. E partirei dagli alborri, no? Il libro, peraltro, si legge veramente molto bene, si vede che c'è la mano di uno scrittore insomma, che sa presentare anche la storia e non solamente la conosce, sono alcune chicche veramente interessanti, come quella sulla ragione per la quale il primo congresso venne fatto a Genova, no? Nel 92. La ragione era, peraltro, molto materiale, no? Per cui si scelse Genova. Questa cosa è stata molto simpatica. Certo, era il quarto centenario della scoperta dell'America, si facevano le colombiadi e lo Stato aveva deciso degli sconti ferruviari, socialisti che non erano ricchi, ne approfittarono per recarsi a Genova, non per assistere alle colombiadi ma per fondare il partito. Poi siccome erano socialisti si divisero tutti immediatamente in due parti. Una parte fondò il partito dei laboratori alla Sala Sivori ed era la parte anarchico operaista e un'altra parte fondò il partito dei laboratori di impronta socialista alla Sala dei Carabinieri. Partito che poi si chiamerà socialista solo l'anno dopo, col congresso che si svolse nella mia città a Reggio Emilia, che aveva già gettato le radici di un cammino socialista grazie a Camillo Prampolini e ai suoi collaboratori. Aveva già fondato le prime case del popolo, le prime cooperative, le prime leghe e anche una forma sia pur primordiale di partito. E si chiamerà poi Partito Socialista Italiano soltanto col congresso di Parma del 1895. Si svolse in una semiclandestinità dovuta alle leggi liberticide del governo Crispi. Quindi è una storia che inizia con una scissione. Forse l'unico caso. Figurati il resto. Ma c'è un motivo, c'è un motivo per cui. Perché la sinistra non è mai stata una sinistra unica. Ci sono state tante sinistre, soprattutto in Italia. E devo dire che in 120 anni di storia la sinistra socialista-riformista è sempre stata minoritaria fino al 1989. Prima minoritaria a partire dal 1912 dentro il Partito Socialista. Poi minoritaria dal 1946, con l'unica eccezione del voto della Costituente, in cui il Partito Socialista ebbe più voti del PC, perché in Italia prevaleva una forza comunista sulla forza socialista. Questo fino alla fine del comunismo, alla caduta dei muri e alla fine del PC. Quindi noi siamo in un'assoluta anomalia nel narrare la storia della sinistra italiana. Perché ci furono molte sinistre, e questo un po' ovunque, ma in Italia la corrente socialista-democratica, diciamo, o socialista-riformista, dal 1912 alla fine del comunismo è sempre stata una minoranza. Ed è un'anomalia che ha ancora peso oggi a distanza di... 1946 in realtà, perché nel PSUP, così si chiamava allora il Partito Socialista, che era il risultato della unificazione tra PSI e il movimento di Leglio Basso, che si chiamava MUP, Movimento di Età Proletaria, era sì al 20%, ma dentro questo 20% c'era una buona parte che col socialismo riformista non voleva avere nulla a che fare. Tanto è vero che poi, negli anni 50, sai come veniva celebrata la nascita del Partito Socialista? Veniva celebrata come la nascita di un partito fondato da Andrea Costa, non da Filippo Turati. Mentre Andrea Costa, nel 1892, al momento della fondazione del partito, non era neanche presente. Ora, su Andrea Costa si possono dire tante cose. Veniva dall'anarchismo, poi convertito al socialismo, fondò il Partito Socialista Rivoluzionario nella sua Romagna prima del 1892. Fondò l'Avanti come periodico socialista prima dell'Avanti, che nacque solo nel 1896, il giorno di Natale. Ma Andrea Costa non volle decidersi, in quella circostanza stranamente, tra l'opzione anarchico-operaista e l'opzione socialista. E non aderì a nessuno dei due partiti. Aderì al partito di impostazione socialista soltanto a Reggio Emilia nel 1893. Io mi sono chiesto perché, poi stai a leggere dietro le righe, a volte è pericoloso, però che sia in qualche modo dipeso da due fattori. Primo, dalla gelosia per Turati, che era intanto diventato il leader del Partito Socialista. I suoi adepti romagnoli lo spronavano a prendere lui in mano il partito e non a lasciarlo a Turati. E secondo la vicenda di Anna Kulishoff, che fu prima compagna di Costa, da cui ebbe la figlia Andreina, e poi si accompagnò con Turati. Magari anche un po' di gelosia di carattere personale, poteva averli subito. Certo. Pronto. Sì, sì, ci siamo, ci siamo. Sì. Devo sistemare una cosa. Prego. Non c'è problema. Si sta scaricando. Il laptop. Capita. Sono sovraccaricati. A posto, a posto. Ok. Beh, raccontava lei della centralità di Reggio Emilia, non per caso lei è di Reggio Emilia. Sì, sì. Insomma, Reggio Emilia ricorre in tutto il libro, dalle prime alle ultime pagine, quasi, no? Perché è stata troppo spesso dimenticata la figura di Prampolini, che fu un progenitore, diciamo, della nascita del Partito Socialista. Prampolini era un socialista riformista, amico di Turati, di due anni più vecchio, di due anni più giovane di lui. Prampolini era del 1859, Turati era del 1857, ma che era arrivato al socialismo per gli stessi motivi di Turati. Cioè, nessuno dei due conosceva Carlo Marx, che non era ancora stato tradotto in italiano. Il primo compendio di Carlo Marx è degli anni 90 ed è ad opera di quel caffiero, Carlo Caffiero, che poi diventò anarchico e spese tutte le sue risorse per una rivoluzione che non si fece e per accudire alle agiatezze, diciamo, di Bakunin, a cui aveva comprato o regalato, credo, una villa in un lago Lombardo. E quindi non conoscevano Marx, non conoscevano il socialismo scientifico. Il loro socialismo era un socialismo a metà tra il romanticismo dei primi socialisti che poi Marx ed Engels definiranno utopistici e in realtà non erano poi tanto utopisti perché quello che dicevano tentavano di praticarlo. Vedi Owens, che fondò una comunità in America alla luce dei suoi ideali di eguaglianza. Ma, oltre a questo, c'era una chiara impronta post-risorgimentale, cioè patriottica. Il socialismo nasce da un impulso romantico verso la giustizia e dall'idea che Garibaldi fosse il primo socialista, in sostanza, cioè del risorgimento come di un anelito non solo che doveva portare all'unità d'Italia, ma doveva portare anche al progresso italiano. E certo. Peraltro, legge Emilia, visto che questo collegamento si fa a Italia-Polloni, è anche, non solamente la patria della città del tricolore, ma è anche il luogo dove venne scritto l'indo nazionale polacco, sono le due cose che uniscono in questo caso. Sì, certo, certo. C'è una lapide, c'è un'insegna nel palazzo comunale che ricorda questo avvenimento. La marcia di Dombrowski. La marcia di Dombrowski, del generale Dombrowski ad opera di Vibischi, a cui è dedicato un intero quartiere a Reggio Emilia, un quartiere popolare, molto carino. Questo non lo sapevo. Sì, sì. E quindi da quella prima scissione si passa di fatto già alla seconda scissione, che è quella che causerà la guerra in Libia, no? Causata dalla guerra in Libia e dalla Prima Guerra Mondiale. Ce ne fu un'altra importante che bisogna ricordare, perché poi da una parte nacque un fenomeno che influì anche sulla nascita del fascismo. Parlo della separazione tra socialisti riformisti che vinsero il congresso nel 1907 e i sindacalisti rivoluzionari. Tra i sindacalisti rivoluzionari troviamo molti esponenti del primo fascismo, a partire da quel Michelino Bianchi che del partito fascista fu il primo segretario, oltre che quadrumbiro della marcia su Roma. Erano ispirati dalle teorie di Sorel. Lo sciopero generale come momento di catarsi del proletariato per la presa del potere, il gesto, insomma, l'atto, l'atto demiurgico che poteva portare alla rivoluzione. Naturalmente Turati con la sua sagaccia e la sua esperienza e il suo modo di ragionare, Turati era un logico nel ragionamento. Smontava quest'idea, la smonterà poi in modo assolutamente incomiabile nel discorso che fece a Livorno quando disse che il socialismo non è l'atto di un momento, non è l'espressione di un'ora X, ma è la costruzione di un percorso, è un'evoluzione che deve interessare le teste e le cose. È bello questa idea che il socialismo deve interessare le teste e le cose. Molto poco marxista perché, secondo Marx, le teste sono espressioni delle cose. invece per Turati no, per Turati l'evoluzione delle teste, cioè l'educazione, come diceva Prampolini, del proletariato. Proprio era un grande educatore, pensava che la prima cosa che si dovesse fare per raggiungere il socialismo fosse educare il proletariato. Infatti aveva scuole dove insegnava a leggere e scrivere, allora chi non sapeva leggere e scrivere non poteva neanche votare, quindi era anche un atto, diciamo, importante per assegnare al partito una percentuale più alta, quella di insegnare a leggere e scrivere. Anche questa era un'erità del Risorgimento. Certo, certo, certo. Ah, poi diceva anche come si doveva vestire la gente, come si doveva lavare. No, no, davvero, era un educatore, era un educatore. Poi il suo evangelismo, insomma, la riscoperta della figura di Gesù Cristo come primo socialista, la predica di Natale che noi celebriamo ancora oggi, ogni Natale, ci troviamo davanti al Stelle di Prampolini sotto il municipio e celebriamo questo scritto. Lui fece la predica di Natale sulla giustizia nel 1899 e che narrava la storia di un predicatore socialista che si metteva davanti a una chiesa e la gente che usciva, un po' come Socrate, no? Per le vie di Atene. Beccava la gente che usciva dalla chiesa e gli spiegava che per essere cristiani non bastava andare in chiesa, bisognava lottare per l'emancipazione sociale, per la giustizia e per la libertà. E che un vero cristiano doveva sentire questo bisogno. Quindi per essere veri cristiani, concludeva Prampolini, bisognava diventare socialisti. Questo non è successo, diciamo, a tutti. Prampolini era un anticlericale, perché quando si pensa all'evangelismo di Prampolini, non bisogna scambiare quello che è la sua devozione, quella che è la sua devozione, la figura di Cristo, con il rapporto nei confronti della chiesa del suo tempo. Anzi, lui faceva questa operazione, se vuoi anche politica, di stampo politico, per mettere in contraddizione la chiesa del suo tempo rispetto al messaggio evangelico. E la contraddizione venne avvertita, talmente forte che ci furono alcuni preti che si spretarono per diventare socialisti. Sembra di parlare di migliaia di anni fa, in passati 120 anni. No, quello che molto spesso anche qua, quando noi spieghiamo l'Italia ai polacchi, viene molto difficile comprendere, no? Che l'Italia è un'entità molto complessa, che in quegli anni, fino ancora alla prima guerra mondiale, intrinciali italiani non si capivano perché non parlavano la stessa lingua, no? Sono cose molto difficili da comprendere per chi non conosce l'Italia. I partiti politici, innanzitutto il Partito Socialista, è stato il primo esperimento di Partito Nazionale. Prima del 1892 non esistevano partiti nazionali, anche il Partito Liberale, non era un partito organizzato in nazioni, era un partito organizzato sui collegi. C'era una espressione, diciamo, degli ideali risorgimentali e liberali e anticlericali, perché ancora la Chiesa non aveva riconosciuto l'unità d'Italia, la breccia di Porta Pia, Roma come capitale d'Italia. E questo avrà soltanto concordato, firmato da Mussolini e dal Cardinal Gasparri nel 1929. Ma i liberali non avevano un partito nazionale, erano ognuno espressione del proprio collegio elettorale. Primo partito nazionale è il Partito Socialista e unisce, pensate allora era complicatissimo, i socialisti siciliani, pensiamo ai primi fasci siciliani, che si svilupparono proprio prima delle repressioni di Crispi, fino alla Valle d'Aosta. Probabilmente non riuscivano, come dici tu, a capirsi, non parlavano lo stesso linguaggio. Le priorità erano diverse, no? E quindi anche questo portava a forza... Insomma, impararono lo stesso linguaggio nel momento in cui frequentavano le stesse assisi. Ecco perché i partiti nazionali sono diventati cemento di unità nazionale. E se pensiamo bene, quando è venuta meno l'unità nazionale, è venuta meno quando i partiti hanno perso la loro funzione e sono stati spazzati via dagli eventi della fine degli anni Ottanta. Allora sono nate tendenze separatiste e disgregatrici e che oggi stiamo vivendo anche durante questa fase di coronavirus. Se pensiamo che ogni regione va avanti per conto suo, ogni città va avanti per conto suo. Insomma, sentiamo, no? O no? O lo sento solo io, l'esigenza di una nuova unità nazionale. Non so. I partiti erano questo. E il primo partito, il Partito Socialista, rispose a questa esigenza, che da un certo punto di vista era rivoluzionaria. Dopo l'unità d'Italia non c'era ancora un linguaggio comune. I socialisti impararono a parlare in italiano se no non riuscivano a parlare nei congressi e a farsi capire. Quindi anche questo è un elemento che porta a ritenere che la storia di questo partito, con tutte le sue scissioni e separazioni, è stata una storia utile per il Paese. Certo. Però poi il partito si rispacca di nuovo sul concetto stesso di guerra, no? Prima quella guerra in Libia e poi quella prima guerra mondiale. Sarà un momento drammatico per l'esperienza del Partito Socialista? In Libia si spaccò proprio nel secondo congresso che si svolse nella mia città, nel 1912, in cui un giovane venuto da predappio, reduce da una galera, diciamo, sofferta assieme all'allora repubblicano Pietro Nenni, si lanciò in un accorato appello contro la guerra e contro il governo Giolitti che l'aveva promossa, ma soprattutto contro quei deputati che erano andati dal re dopo un attentato a dichiarare in solidarietà. E gli chiese l'espulsione. E vennero espulsi Guissolati, Bonomi, Cabrini, un ceppo importante della corrente riformista che così si trovò in minoranza per la prima volta. Non per la prima volta, c'è stato anche un periodo in cui fu l'inoranza e maggioranza furono i sindacalisti rivoluzionari aggregati a Ferri e a Morgari che erano correnti centristi. Ma allora, da allora, come dicevo, 1912, i riformisti saranno sempre minoranza nella sinistra italiana. Prima nel PSI e poi perché il Partito Comunista sarà più forte del Partito Socialista. Fino alla fine della storia che avviene con... la fine della storia adesso non voglio parafrasare il famoso filosofo, però indubbiamente 1989 rappresenta la fine dell'epoca. Ed è paradossale quella crescita di Mussolini in una posizione di antiguerra in Libia che poi lo porterà a fare un salto quasi di 360 gradi, no? Più avanti, nella scalata. Secondo me fu una scelta sofferta e un'evoluzione. Perché lui era dichiaratamente contro la guerra. Poi quando comprese che la guerra sarebbe stata un'impresa che avrebbe influito sui destini dell'Italia e che la parte giusta era la parte che si schierava contro gli imperi centrali, cioè contro l'Austria e la Prussia, e volle l'alleanza dell'Italia con la Francia e l'Inghilterra, ma soprattutto scrisse il primo articolo, quello che viene normalmente considerato come lo strappo di Mussolini, che è della fine del 1914. Un articolo molto misurato, in cui diceva, vabbè, non possiamo restare con le mani in mano, però non era un articolo bellicista. Diverrà dopo bellicista dopo che i francesi gli avranno pagato il suo nuovo giornale Il Popolo d'Italia e avrà capito, insomma, che a quel punto bisognava giocare a poker. E devo dire che vinse quel poker perché poi riuscì a convincere molti italiani a diventare fascisti nel dopoguerra. Anche perché la posizione dei socialisti, Turati in avanti durante la Prima Guerra Mondiale, fu un po' ambigua, in qualche modo, no? Non di Turati, di Lazzari, né aderire né sabotare. Quando Turati fiosò quella frase, sostenendo che non aderire era già un po' un sabotare. E non sabotare era già un po' un aderire. Quindi pareva talmente ambigua che poteva anche voler dire il contrario. Anche perché la Prima Guerra Mondiale poi non finisce con la Prima Guerra Mondiale, ma per il mondo socialista diventa un altro fronte, no? Quello molto complicato per la rivoluzione russa. Perché c'era la rivoluzione bolshevica del XVII e quindi si apre una fase molto rovente della politica italiana in cui si fronteggiano schieramenti contrapposti. Bisogna pensare a quello che successe nel Partito Socialista al Congresso di Bologna nel 1919, quando il partito aderì all'internazionale comunista. Cioè divenne sostanzialmente un partito comunista con una piccola minoranza di riformisti, come Turati, Treves, Prampolini, che invece contestavano il mito dei Soviet e la rivoluzione armata che si riteneva imminente in Italia. Il partito poi si dividerà nel 1921 al Congresso di Livorno perché quel partito che era maggioranza comunista si divise in due. Quella frazione che era maggioranza comunista si divise in due. Una parte era dell'idea che bisognasse espellere i riformisti e cambiare il nome da Partito Socialista a Partito Comunista. Era la parte di Terracini, di Bordiga, di Bombacci, di quelli che erano fedeli a cadavere a Mosca, i 21 punti di Mosca, che questo pretendevano. E un'altra parte con Serrati che invece pur tentando di rimanere nell'internazionale comunista non accettava questi due punti. Cioè l'espulsione dei riformisti e il cambio del nome da Partito Socialista a Partito Comunista. Così i comunisti che si dichiararono comunisti puri fecero l'ascissione lasciando i comunisti impuri nel Partito Socialista sia i riformisti. Solo che dopo un anno, poco più di un anno, alla vigilia della marcia su Roma, i comunisti impuri, cioè Serrati e gli altri, decisero di cacciare i riformisti. Così un partito solo si divise non in due ma in tre. E la divisione fu assurda perché come scrisse Nenni nel suo libro sui sei anni fondamentali dell'Italia, sei anni di guerra civile, editato in Francia per la prima volta, vi fu una scissione dei concordi nella concordia dei discordi. Cioè la scissione segnò una rottura tra una maggioranza comunista che restò sì e una minoranza comunista che uscì dal PSI, ma nel partito, cioè nell'unità, c'erano i discordi, cioè erano i riformisti e i comunisti che poi scississero a loro volta, anzi vennero cacciati i riformisti da Serrati e degli altri Partito Socialista e fondarono i PSU, Turati, Prampolini, Treves, proprio alla vigilia della marcia su Roma. È una storia tragica, è una storia paradossale, è una storia abominevole se vuoi. Pensare che si potesse consumare una scissione, una separazione, che si potesse decidere un'espulsione proprio a pochi giorni della presa del potere da parte dei fascisti. Voleva dire non averne anche il senso della situazione, il senso storico della situazione. Non percepire quello che sarebbe accaduto. L'unica differenza rispetto ad oggi, lo dico per chi magari alla mia età, che all'epoca quantomeno si litigava sulla visione, su visioni ideologiche molto specie. Ah certo, no, si litigava solo su questo. Poi c'erano anche questioni personali, se vuoi, ma si litigava soprattutto su visioni ideologiche, certo. Ma nel Partito Socialista e Riformista, poi, che si chiamò PSU, conversero persone di diverso tipo, da Matteotti che aveva combattuto la guerra a cadavere, poi anche il fascismo, il Saravigina, del famoso omicidio del giugno 1924, a Turati, che del Partito Socialista era stato il fondatore, con lui a Treves, a Prampolini, e ai socialisti di Molinella, che avevano costruito le prime cooperative con Massarenti, a Modigliani e a tanti altri, che si consideravano socialisti democratici. Prima volta in cui si parla di Partito Socialista Democratico ne parla Prampolini sulla giustizia. Dicendo, noi non siamo più socialisti unitari, che non vogliamo l'unità con chi professa un'ideologia totalitaria come i comunisti. Noi siamo socialisti democratici. E questo dovrebbe essere il nome del Partito, disse Prampolini nel 1925. La cosa drammatica è che nemmeno gli anni del fascismo, gli anni della guerra, riusciranno a creare una specie di fronte comune dell'area socialista. Perché... Ha parlato prima di Matteotti, no? Ieri Nencini ricordava quelle frasi di Gramsci sull'omicidio Matteotti, no? Che dette oggi sembrano... Sì, sì, ma Gramsci scrisse sull'Ordine Nuovo parole ancora peggiori su Prampolini e i socialisti reggiani, che definì utili idioti della borghesia. Sì, sì. Incredibile. E Togliatti scrisse parole di fuoco su Turatti dopo la morte del liber socialista a Parigi nel 1932. No, sono tutte cose che sono rimaste nella storia, che non si possono cancellare. Perché sono misconosciute. Ma non sono conosciute... Beh, sai, questo dovremmo fare un ragionamento a parte sulla storia in questo momento, come è concepita e come è recepita la storia d'Italia. Come è conosciuta male la storia d'Italia, soprattutto la storia della politica italiana. Anche perché poi la storia, siccome è molto elegante, è anche poi fatto vedere, no? Chi aveva ragione. Magari col tempo e col passare del tempo, ma oggi sappiamo chi era sulle posizioni... Sì, ma non conta più nulla, perché ci sono partiti astorici, quindi chi aveva ragione e chi aveva torto non conta assolutamente più nulla. Non ci sono più vecchi partiti che possono rifugiarsi dietro nuove sigle. Coloro che hanno avuto torto possono rifugiarsi nelle nuove sigle inventate proprio perché hanno avuto torto. Sì, purtroppo è vero. Esattamente così. La fine del fascismo, dopo guerra, invece, porta... Una nuova figura che... Il partito socialista si unifica nel 1930. Il partito socialista, il PSI e le PSU, il partito dei riformisti, i Turati, e il partito massimalista di Nenni, si unificano nel 1930 in Francia. Quindi si presentano ancora, dopo l'unificazione col Movimento di Unità Popolare di Lelio Basso, come partito unitario del socialismo italiano, dove ci sono correnti diverse, da quelle di Sargat, di impronta chiaramente riformista, fino a quelle di Morandi e di Basso. Quest'ultimo addirittura proponeva, per un certo periodo, anche il partito unico dei lavoratori italiani. Infatti il suo MUP era un partito che si prefiggeva lo scopo dell'unità proletaria, cioè l'unità dei partiti proletari. Poi ci fu la battaglia per la Repubblica, che il partito socialista patrocinò molto più dei comunisti, che dopo la svolta di Salerno del 1944, di Togliatti, voluta da Stalin, legittimò la monarchia. Mentre il partito socialista non l'ha mai legittimata. ha sempre ritenuto la Repubblica e la Costituente, i due obiettivi fondamentali dell'immediato dopoguerra. Nenni disse, era famoso per gli slogan, disse o la Costituente o il caos. Infatti arrivò la Repubblica con il referendum del 2 giugno e contemporaneamente alle elezioni per la Costituente, cosa imprevista allora. I socialisti vincono i comunisti. I socialisti sono più forti dei comunisti. Prendono il 20%, i comunisti il 18%. E Amendola scrive che questa cosa non era stata prevista, era difficile da comprendere, perché durante la resistenza, in effetti, i comunisti erano stati più numerosi e attivi dei socialisti, più organizzati. Avevano anche più soldi, perché li pagava Mosca e quindi potevano certamente organizzarsi meglio. L'organizzazione nel PC è sempre stata una peculiarità e la disorganizzazione nel PC è un'altra peculiarità. Poi ci fu la scissione di Sargat nel 1947, giustificata dal fatto che i socialisti volevano presentarsi con i comunisti alle elezioni, fare il fronte popolare. Sargat non ci stava e fondò il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, che si richiamò proprio alla sigla di Reggio Emilia del 1893, Partito Socialista dei Lavoratori Italiani. E quindi c'era una dualità di quasi dieci anni tra Sara Catenelli. E qui nasce un partito, il PSI, che è un partito definito da uno studioso italiano a sovranità limitata. Cioè il Partito Socialista era un partito che sostanzialmente assomigliava molto al PC. Difendeva Mosca e Stalin, attaccava gli altri partiti socialisti socialdemocratici dell'Europa occidentale e prendeva ordini dal Partito Fratello. C'è Basso, che in questo periodo si distingue un po', che dice, scrive in uno dei suoi scritti, sostiene la tesi che un partito così non ha senso, tanto vale aderire al PC. Morandi sosteneva invece che la distinzione tra PSI e PC era un problema falso. Il problema era l'organizzazione della lotta, in cui i socialisti dovevano caratterizzarsi assieme ai comunisti. E che il problema di fondo era conoscere la posizione del partito nei confronti della guerra dichiarata all'Unione Sovietica. Guerra non materiale, ma politica all'Unione Sovietica. E a quel punto scelse una parte del campo. Scelse il campo sovietico e comunista rispetto al campo occidentale, democratico, capitalista. Però poi arrivò l'Ungheria. Si slegò da questo legame, Nenni, nel 1956. Morandi era morto da poco più di un anno, dopo il congresso di Torino del 1955. Morandi muore, nel quel congresso anche Morandi sostiene la necessità del dialogo con i cattolici. Il congresso di Torino è tutto imperniato su dialogo con i cattolici. Il congresso di Venezia del febbraio 1957 sancissi la fine dell'unità d'azione con il partito comunista dopo la presa di posizione dei socialisti sui fatti in Ungheria e sul ventesimo congresso del CUS. Sul ventesimo congresso del CUS che segnalava il superamento e la condanna del mito di Stalin, dei suoi crimini, che erano stati molteplici e sanguinosi. Aveva eliminato i due terzi del comitato centrale del partito comunista bolshevico, oltre a eliminare intere popolazioni con la teoria e la pratica dell'industrializzazione forzata. Ma dopo l'Ungheria Nenni si schierò dalla parte degli insorti, togliati, si schierò dalla parte dei carri armati inglesi. E quindi il partito socialista iniziò, diciamo, una nuova era fondata su due obiettivi. Prima era quello dell'unificazione socialista, che avrebbe dovuto prendere piede subito dopo l'incontro di Pralonian tra Nenni e Sarga. E che invece la sinistra del PSI, definita carrista perché non condannava i carri armati a Budapest, riuscì a bloccare con un gioco di preferenze. Il congresso era unitario, ma nell'elezione del comitato centrale prevalsero gli uomini della sinistra rispetto agli autonomisti Nenni. Anche perché tanto togliati come De Gasperi forse avevano degli interessi perché il mondo socialista non si riunisse. Certo. E poi l'altro obiettivo era quello del centro-sinistra, del dialogo con i cattolici, con la democrazia cristiana, per spostare a sinistra all'asse politico del paese. Aveva già preso piede nel 1952-53 questa linea, ma allora coinvolgeva anche il PC. Cioè Nenni pensava di inaugurare una nuova fase politica con un rapporto nuovo tra partito socialista e democrazia cristiana che coinvolgesse in qualche forma, in qualche misura anche il partito comunista. Dopo no. Dopo socialisti e comunisti sono due cose diverse, marciano autonomamente, il PSI decide poi piano piano, avverrà l'unificazione socialista, ma solo dieci anni dopo, dieci anni di distanza, di praticare la linea dell'operazione Nenni, cioè dello spostamento a sinistra dell'asse politico italiano, cioè del centro-sinistra, a partire dagli inizio degli anni Sessanta. Anche perché Saraga diventa presidente, quindi in qualche modo... Saraga diventa presidente del 64 dopo l'incidente di Segni, che venne colpito da una grave malattia e benedice l'operazione di... ma prima c'è la cessione del PSIUP del 63, pagata con i rubli di Mosca, mentre i socialisti si accingono ad andare nel governo per condizionare la democrazia cristiana, per aprire una nuova fase di riforma. Ricordiamoci che Riccardo Lombardi era capo della commissione programma del PSI, aveva delineato una vera e propria rivoluzione, che ovviamente era un po' utopistica, attraverso i governi di centro-sinistra, la pianificazione, la riforma agraria, la riforma urbanistica, le regioni, lo statuto dei lavoratori, eccetera, eccetera. La riforma sanitaria, tutte cose che poi piano piano si fece. E quindi si marciò con i governi di centro-sinistra, con Nenni vicepresidente del Consiglio, eccetera, eccetera. Ma la situazione fa lì. Di divisioni in tutta Europa, no? Solamente la Francia forse in quel momento aveva un partito socialista decisamente più forte, ma nel resto d'Europa siamo ancora in pieno franchismo in Spagna. La Francia no, la Francia in realtà aveva un partito socialista più debole, la Sfio diventerà più forte, committerà, dopo quel fine in 1971. La Francia era l'unico paese, oltre all'Italia, in cui il partito comunista era più forte e il socialista, in quel periodo. E dove invece in Europa in quegli anni il socialismo riformista aveva più spazio rispetto all'Italia? Beh, c'era la socialdemocrazia, svedese, finlandese, eccetera, i laboristi inglesi, i socialdemocratici tedeschi. Ricordiamoci della figura di Willy Brandt, una figura storica, no? La storia del socialismo europeo. E poi diventerà importante anche l'eurosocialismo, cioè il socialismo spagnolo, portoghese, francese, italiano e greco. Ricordiamoci le figure. Suárez, González, entrambi sorretti durante le dittature fasciste portoghese in quei paesi, dal partito socialista italiano in Italia. Io ricordo González che praticamente viveva nella direzione del PSI nei primi anni 70. Poi Mitterrand in Francia, Craxi in Italia e Papa Andreu in Grecia. L'eurosocialismo. A cui si volle contrapporre un eurocomunismo che in realtà non c'era, perché in Portogallo i comunisti erano praticamente inesistenti, così pure in Spagna. In Francia erano spariti, c'era solo il partito comunista italiano di Berlinguer. Sì, l'Italia come sempre. Ma anche per la posizione geografica che aveva in quel momento, no? La posizione geografica rispetto alla guerra fredda. Però poi quegli anni fallì l'unificazione socialista con un'alleanza che si riuscì a mettere insieme nel comitato centrale famoso del luglio del 1969 tra Mancini, che era molto arrabbiato perché non divenne segretario per veto di Saragat, il segretario venne eletto Mauro Ferri, De Martino, Giolitti Eviglianesi. Fu una nuova maggioranza che mise in minorenza Nenni al comitato centrale, esclusi socialdemocratici e quindi in qualche modo legittimò una nuova scissione. E PSI e PSD si ritrovarono quindi ancora una volta autonomamente organizzati, diversamente organizzati. Tutti gli anni 70 sono stati anni piuttosto complicati per il campo socialista, no? Di divisioni di poco peso. Sullo sfondo di grandi lotte sociali, di 68 studentesche, 68 e poi negli anni 70 non dimentichiamoci. L'austerity, la crisi del petrolio, l'inflazione, il terrorismo, i grandi problemi, le grandi battaglie per i diritti civili, la figura di Loris Fortuna, i referendum vinti, sul divorzio prima e sull'aborto poi. L'idea che i socialisti potessero risorgere, poi troncata da quel risultato del 1976, quando De Martino in televisione disse che i socialisti non andranno mai più al governo senza i comunisti. E ritornammo così ad un rapporto organico di dipendenza degli uni sugli altri. E poi la fase craxi. E' paradossale che neanche gli anni della lotta armata abbiano portato un indietreggiamento del partito comunista e uno spazio per un socialismo democratico. E' paradossale questa cosa? Neanche, non solo, non portò un indietreggiamento del partito comunista, neanche i fatti d'Ungheria. Perché dopo i fatti d'Ungheria il partito comunista perse poco o nulla. Il partito comunista ebbe un buon risultato, il 14,2%. Superato solo dal risultato del 1987 del psilicraxi, 14,3, primo 0,1. Ma il partito comunista non perse quasi niente, anche se subì una scissione. Ricordiamoci di Giolitti e degli intellettuali comunisti che scelsero di aderire al partito socialista. Baldo Magnani, storico leader del partito comunista di Reggio Emilia, che aderì con la sua USI, dove c'era anche Libertini al partito socialista. Codignola, con un'unità popolare che aderì. Cioè, voglio dire, il congresso di Venezia pareva preludere davvero la formazione di un grande partito socialista autonomo. E poi, l'ultima fase, dicevo, la fase di Craxi. Dopo la sconfitta del 1976... Anche l'arrivo al potere di Craxi non fu decisamente semplice, in realtà. No, fu una specie di colpo di Stato, diciamo. Si riunirono le varie correnti. De Martino aveva dichiarato la sua disponibilità alle dimissioni. Non si presentò al Comitato Centrale, mandò una lettera e si elesse la nuova direzione. Allora il segretario era eletto dalla direzione, non da Comitato Centrale. Ci fu un accordo su Craxi che coinvolse, diciamo, una nuova generazione di socialisti, da Signorile a Manca, allo stesso Craxi, estromettendo un po', sotto la benedizione di Giacomo Mancini, estromettendo un po' i vecchi. Danny era ancora presidente del partito, per cui gli autonomisti, che avevano il 15% dei membri del potere centrale, si trovarono in un tempo il presidente del partito, Nenni, il segretario del partito, Craxi. E lì iniziò con la lunga marcia. Che con le vittorie portò anche a una certa unità del partito, forse l'unico momento storico del dopoguerra. E quando si vince è difficile dividersi. La divisione in genere è quando si perde. Infatti il partito socialista si divise, si lacerò solo dopo la sconfitta del 1992. Sono state molto belle i tuoi passaggi su quei giorni, no? Perché nonostante si capisca il fatto che... Ho fatto un diario lì, ho cambiato anche il carattere, è diventato un diario, sì. Nonostante si vede che la tua visione fosse di prospettiva, no? E che cercassi di rispostare, di avvisare Craxi, rispostare Craxi, però ti legava... Si vede il doppio senso, quello della visione politica e quello dell'aspetto umano, no? Della gratitudine umana verso quella persona. Io ero stato uno dei primi giovani autonomisti della FIGS, eravamo mercerara della federazione giovanile, era sempre in mano alla sinistra. Il mio segretario è stato Roberto Villetti, che purtroppo non c'è più e al quale mi legava stima, una grande stima e anche una grande amicizia. Ma essendo stato uno dei primi autonomisti, come anche Claudio Martelli e altri, e Ugo Finetti, per citare alcuni, poi sono diventati personaggi importanti nella storia del PSI. Avvertivo un venirmeno della tensione politica, della creazione politica che aveva caratterizzato il PSI in tutti gli anni 70 e in particolare fino all'avvento di Craxi alla presidenza del Consiglio e al suo ritorno da Palazzo Chigi al partito. Poi c'è stata una fase di stagnazione, per dirla con Gorbaccio a proposito di Brezhnev, la stagnazione di Brezhneviana, è stata un po' la stagnazione craxiana, nel senso che pareva che tutto fosse rimandato ad un futuro vicino rappresentato dal ritorno di Craxi alla presidenza del Consiglio. Ma qualche coraggio forse, no? Quasi come se la politica italiana fosse ingessata, immutabile. Invece in quegli anni mutò profondamente, mutò profondamente la situazione internazionale, europea e italiana. Ci fu la fine del comunismo, la fine del PC e noi restavamo a guardare. Questo era quello che io non sopportavo, non capivo. Mancò il coraggio di un regicidio, no? Di un passo in avanti, davanti a un Craxi che fosse troppo statico in quel momento. Sì, ma era impossibile allora, perché era molto difficile di sentire allora. Le elezioni sembravano sempre alle porte. Un dissenso, anche frutto di coraggio, diventava temerarietà e da un momento all'altro rischiavi di non essere più candidato. E' anche il limite delle persone che hanno un grande carattere, no? Che hanno un grande ego, sono dei grandi politici, ma poi arriva un certo punto in cui la stanchezza del potere porta anche a una certa incapacità di vedere il futuro, no? Io a Craxi devo tutto. Nel senso che se non ci fosse stato lui, segretario del partito, probabilmente io non sarei neanche diventato deputato. Sarebbe cambiata la mia vita. Forse non sarei stato neanche nel PSI, perché con De Martino segretario era difficile rimanere in PSI. Quindi devo tutto. E quindi non mi sento neanche di dire ha sbagliato. Chi sono io per dire che ha sbagliato? Però in effetti ha sbagliato, perché se no non saremmo finiti come siamo finiti. Ha sbagliato quantomeno a non prevedere quello che sarebbe avvenuto. Lui ha sempre detto, una volta mi disse, vedi la politica è tirar fuori un'idea ogni volta, ogni mattina che ti fai la barba. Non un giorno sì, un giorno no. Ogni mattina che ti fai la barba devi tirare fuori un'idea. E ti saltava fuori un'idea neanche una volta al mese. Quindi era difficile pensare di poter sopravvivere in un momento del genere, che era un momento di profondi disequilibri, di grandi trasformazioni. Messi forse entrando anche in gioco delle disoncrasie personali, no? La Lega è stato il primo fenomeno del crollo del sistema, no? La Lega quando si afferma, per la prima volta. Sì, un po' nell'89 l'elezione europea, ma solo in Lombardia. Nel 90 l'elezione amministrativa cresce in tutto il nord. La Lega è un fenomeno di base, una reazione di base. Elegge personaggi che nessuno conosce, con 10 preferenze, 15 preferenze. Però col 5%, 6%, 10% ovunque nel nord. E poi si conferma, anzi, avanza fortemente con le elezioni del 1992, quando si porta a 50 deputati, 20 o 30 senatori. Quello è il primo, la prima bisaglia. La seconda sono i referendum segni. E il primo noi siamo andati a parteggiare per il non voto quando nessuno ce l'aveva chiesto. Quindi siamo risultati dei sconfitti. Quella andata al mare famoso, no? Sulla preferenza unica. Andate al mare. Maggio-giugno 1991. E il terzo è Tangentopoli, dell'esplosione delle indagini sul finanziamento illecito. Tutte e tre hanno portato alla... E sono stati momenti successivi, non sono esplosi insieme, no? Sono stati anni tra l'uno e l'altro. E non capire che c'era qualcosa che li legava un percorso unico che portava alla frantumazione del sistema politico italiano. È stato un errore non da poco per un leader politico. Lui pensava, con me lo disse, poi alla fine la democrazia cristiana reggerà e noi assieme alla DC, anche col maggioritario, faremo 60 seggi al sud. Anche la democrazia cristiana è sparita. È stata una pulizia, come dire, globale. C'era lui la sicurezza che la caduta del muro di Berlino portava anche alla sparizione del partito comunista e in qualche modo quelli sarebbe stato un campo aperto, no? Pensava che la fine del comunismo riguardasse solo il PC. Infatti disse, non un solo calcinaccio deve arrivare sulla nostra testa. Invece si è arrivato interamente il muro sulla nostra testa. Questo è stato l'errore. E poi c'è un periodo anche della criminalizzazione di Craxi che noi abbiamo cercato di combattere, perché questo è veramente assurdo. I falsi processi, le indagini giudiziarie finite con danni senza senso. Se le somme insieme arrivano all'ergastolo per un uomo di 70 anni, 65 anni, come era lui allora. Ergastolo per finanziamento illecito, mentre i mafiosi escono dalle galere. In un passo molto umano racconti della difficoltà di riuscire a far vedere un dissenso politico nel momento in cui bisognava stringersi intorno a un capo che veniva completamente attaccato. Certo, certo. Noi smettemmo di fare opposizione. Io ero tra i fondatori della corrente di Claudio Martelli e di rinnovamento nel 1992, durò sei mesi, perché poi dopo il primo avviso di garanzia a Craxi cessammo assolutamente. Cioè non potevamo, insomma, qui il problema non era più politico, era la criminalizzazione di un uomo e conseguentemente di un partito. Questo, se mi è consentito, si è fatta parzialmente giustizia di questo. Nel ventennale della morte, attraverso un film, attraverso molte discussioni, attraverso celebrazioni, attraverso delegazioni di partiti che sono andati a Dammamet, si è parzialmente rimossa quella pregiudiziale e quella condanna senza appello che era stata emessa vent'anni fa. Anche perché, come abbiamo detto prima, la storia è molto elegante per chi vuole vederla, no? Prima o poi dà sempre ragione a chi l'aveva. Prima o poi sistema le cose. La storia è vera. La storia è verità, alla fine. È verità. Prima o poi sistema le cose. Le mette tutte al proprio posto. Ma ci vuole molto tempo. Ancora adesso non è al proprio posto la storia, perché ha cancellato per intero, o rischia di aver cancellato per intero, tutta la storia socialista. Quando io penso che nelle sezioni del PD ci sono i ritratti di Togliatti, di Berlinguer, di Rilde Jotti, a volte di Moro, perché poi si ricordano che ci sono anche una parte di ex democristiani, ma non c'è mai un ritratto di Turati, di Nenni, di Saragat, se non dire di Craxi. Allora capisco che è interesse di qualcuno avere rimosso quella storia, non ricordarla. Perché quella storia in realtà è la dimostrazione della loro falsa coscienza. Cioè la dimostrazione che c'è stato chi, prima di loro, è arrivato a certe conclusioni. Da loro, in quel periodo, sempre contestate. Perché è comodo dire che hanno avuto torto sull'Ungheria, hanno avuto torto sul centro-sinistra, hanno avuto torto su Nenni. Adesso in parte sostengono anche di aver avuto torto su Craxi. Arrivare sempre con vent'anni di ritardo, c'è chi paga le proprie ragioni. Ed è strano, ma in Italia siamo arrivati al punto che è giusto pagare non dei propri torto, ma delle proprie ragioni. Sì. Però in un futuro, io molto spesso litigo anche con quelli della generazione prima di me, nel senso che quelli della mia generazione, io all'epoca sono dell'83, quindi cosa avevo? Sette, otto anni, nove anni. L'elettorato di una certa sinistra, me e i miei amici, che votiamo tre, quattro partiti diversi. Poi in realtà quando ci sediamo al tavolo, in fin dei conti, abbiamo le stesse idee, la stessa visione del futuro. Ancora oggi noi ci presentiamo davanti delle difficoltà che sembrano insombortabili. E poi, leggendo il tuo libro, mi sono trovato davanti invece a delle divisioni anche ben più profonde rispetto a quelle che noi abbiamo oggi, su questioni molto più crude, come le questioni ideali. Infatti mi chiedo, ma se siamo stati in grado di superare quelle divisioni laggiù, com'è possibile che oggi non siamo in grado di fare un passo in avanti e riuscire a superare anche queste altre? Non è che a volte noi pretendiamo da loro una specie di abbiura rispetto al passato che forse non otterremo mai? Che è anche una presunzione forse nostra a volte? Una domanda provocatoria. Sì, può essere. Può essere. D'altronde sai, quando tu sei stato in una condizione, sei stato messo in una condizione di umiliazione, se non di disprezzo, di carattere morale, perché un conto è il dissenso o anche la lotta dura, a volte anche sanguinosa, per ragioni politiche. Ma quando tu, quando i nostri compagni di base non riuscivano ad andare al bar del paese dove erano andati, senza sentirsi offendere, da quelli stessi con i quali avevano collaborato, perché generalmente in Emilia c'erano state giunte di sinistra sindaci socialisti, vice sindaci comunisti o viceversa. Mi si è determinato che uno strappo, uno strappo che ha favorito poi il voto della maggior parte dei socialisti che votavano sia Forza Italia, cioè un partito che non c'entra niente con la storia del socialismo, eccetera. Ma che nel voto a Forza Italia trovavano un elemento di vendetta. Anch'io sono partito da lì, ero iscritto al nuovo PSI. Ecco, io mi vendico, non è un ragione ideale, è una sorta di stato di necessità in cui ti trovi. Non puoi stare con chi ti criminalizza, anzi devi combattere. E noi dobbiamo quindi rassegnarci che dobbiamo aspettare che passi una generazione? Ma sì, passa. Probabilmente ne è già passata più di una di generazioni, anche perché sono bastanti tanti anni. Non so. Vedi, io penso che un partito come il PD, che ha un passato comunista e democristiano, un presente in Europa socialista, in Italia democratico, è un partito confuso. Quindi bisognerà arrivare a un minimo dichiarimento. D'altronde D'Alema ha detto una cosa giusta. Ogni tanto le dice di cose giuste. Quando, uscendo dal PD, ha detto ma io quando sono uscito dal PC ho avuto, quando il PC, ha cambiato nome, ha cambiato storia, ho avuto una certa angoscia. Non ho avvertito nessuna emozione quando ho deciso di uscire dal PD. Sai perché è questo? Perché è un partito senza identità e senza storia. Tu esci dal PC, è un partito che bene o male è la tua casa, è stata la tua casa per anni, quella di tuo padre, dei tuoi nonni, all'interno dei quali sei riconosciuto nei suoi ideali, nella sua storia. Ma se esci dal PD, che effetto ti fa? Nessuno. Lo dice D'Alema, eh? Non dico io. Penso che abbia ragione. In questo senso abbia ragione. Forse l'Europa ci potrebbe, la famiglia europea, socialista europea ci potrebbe aiutare in questo percorso per un futuro condiviso, no? Non credo, no? È già troppo frastagliata, indebolita. Tutto sommato il PD è scritto al Partito Socialista Europeo, quindi gli va bene così. Non ha bisogno di ulteriori chiarimenti. Anche noi, il nostro piccolo, siamo iscritti al PD, paghiamo regolarmente la quota annuale. Non vedo un interesse del PD a fondare un nuovo partito italiano. Ogni PD ha del suo da rifondare e da rilanciare. Siamo quasi tutti in crisi, eh? Io penso che in Europa possa nascere un nuovo progetto. Qualcosa, sì, un progetto politico innanzitutto europeo. Questo sarebbe molto. Una situazione in cui purtroppo dobbiamo fare i conti con dei populismi e dei sovranismi in ogni paese. Sono poi quelli che frenano, no? Nei singoli paesi. L'estensione della solidarietà europea. E che una forma di socialismo da rilanciare sia proprio quella riformista e liberale portata avanti in Gran Bretagna da Blair, in Germania da Schroeder, in Spagna da Gonzales, in Portogallo da Suarez, in Italia da Craxi. Però non si può tornare a passare. Questo è il punto. Bisogna riuscire a mettere le antenne sul presente. Anche perché con quello che è successo in questi mesi, l'immediato futuro è ancora poco chiaro, ma sarà drammatico. Dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista psicologico, la gente dovrà uscire da una specie di guerra, come è stato detto, no? Una guerra di isolamento. Una guerra in cui, come ha detto Bill Gates, eravamo tutti alleati e non sapevamo contro chi combattevamo, che è una cosa anche allucinante, no? Sembra un film di fantascienza. Un pipistrello sta mettendo in ginocchio il mondo. E ha messo in luce certi errori, no? Della globalizzazione come l'abbiamo conosciuta fino a questo momento, no? Certo, certo, certo. Un'Europa che rinuncia alla produzione di elementi medici perché vengono fatti solamente in Cina e va bene così. È anche un'opportunità però per il mondo occidentale, se viene colta. Non c'è dubbio che bisogna ridisegnare tutto. Non c'è poco da fare. Siamo a un punto di non ritorno e quindi ci sarà un periodo in cui lo Stato dovrà necessariamente accompagnare l'economia, sovvenzionare e accompagnare l'economia. Sarà un momento in cui certi servizi dovranno essere ulteriormente potenziati e non tagliati, penso alla sanità. Sarà un momento in cui bisognerà pensare di por mano anche a una revisione istituzionale in questo Paese perché così non si può andare avanti. I rapporti tra Stato, Regioni, Comune, non possono continuare ad essere questi. E crede che sia possibile con una spinta regionalista così forte tornare indietro? La gente ha sbattuto il muso contro questo virus e quindi ha preso atto, secondo me, della necessità di qualche correttivo. D'altronde attenzione perché il titolo quinto della Costituzione italiana, quello che sancisse i rapporti tra Stato e Regioni, è stato profondamente modificato dal governo dell'Uligo, centro-sinistra, in chiave antileghista. Per evitare che la Lega prenda troppi voti, noi facciamo una riforma ultraleghista. Attribuiamo tutti i poteri alle regioni, ideiamo questa qua cerva situazione delle materie concorrenti tra Stato e Regioni, togliamo poteri allo Stato. Quando Renzi ha proposto un referendum per superare questa visione disgregatrice, perché non si può definire altro, del titolo quinto della Costituzione italiana voluta dal governo dell'Uligo di Prodi, gli italiani l'hanno bocciato e quindi siamo al punto di prima. Lasciando peraltro la riforma del Rio a mezza strada. Da notare poi che questa riforma del titolo quinto voluta dall'Uligo è stata immediatamente contestata dagli stessi. Il ministro delle riforme nel 2006, che era ulivista, propose a tutti i gruppi la possibilità di una profonda riforma del titolo quinto che loro stessi avevano appena inaugurato e quindi erano coscienti di avere fatto una cosa sbagliata. Tanto è vero che la Lega successivamente approvò una riforma nel governo Berlusconi che era molto più moderata, che modificava il titolo quinto in termini più moderati. Quindi quella riforma non era leghista, era ultraleghista. E' stata fatta per togliere voti alla Lega, tant'è vero che dopo la Lega vintò le elezioni. Stesso discorso sulle pensioni, sulla riforma Maroni poi ritoccata malamente, che poi ha portato da Fornero. Sì, certo, certo, certo. La sinistra che cerca di rincorrere gli altri sul loro campo. È un male degli ultimi... Ma sì, perché ormai i termini sono abbastanza arrugginiti, questi termini. Però non c'è dubbio che se tu vuoi fare un favore, in parte anche Renzi lo ha fatto in certa accentuazione, ai populisti fai il populista. Se vuoi fare un favore ai leghisti fai il leghista. L'articolo quinto della Costituzione italiana era una riforma di stampo ultraleghista, corretta, anche se poi il referendum non è passato, è rimasto il testo originario, dagli stessi leghisti in termini moderati. Certe accentuazioni del primo Renzi, anche durante il referendum, quando diceva ogni tre senatori ne facciamo fuori uno, via, a casa, a casa, via, risparmiamo soldi. Ma che vuol dire? Che senso ha? Questo è il modo di ragionare di Grillo e di Di Maio. E allora tanto vale essere grillini, se tu sposi queste tesi. Quindi se vuoi fare un favore ai leghisti fai leggi leghiste, se vuoi fare un favore ai 5 Stelle fai leggi populiste. Come poi, in fondo, è avvenuto. E non è che abbiamo combattuto idealmente questi fenomeni politici. Ma infatti un certo dramma... Abbiamo venseggiato, abbiamo accarezzato. Il dramma degli ultimi 15 anni del centro-sinistra italiano è appunto quello di aver sempre seguito gli altri sul loro campo e di non aver mai marcato un obiettivo futuro, no? Ma hai detto agli italiani, questa è la nostra visione dell'Italia fra vent'anni. Mentre invece Grillo l'ha fatto, la Lega l'ha fatto, per i loro ideali, chiaramente. Ma hanno dato agli italiani una visione di prospettiva. Noi fra dieci anni vogliamo che accada questo. Noi fra vent'anni vogliamo che accada questo. La sinistra invece è sempre stata schiava di arrivare al governo, no? Quasi come se lo mette, con se quello di arrivare. Quanto meno bisogna contestare queste idee sul futuro della Lega e di Grillo. Per esempio l'idea della democrazia diretta, della democrazia partecipata attraverso Inter, dell'abolizione della Camera e del Senato. Mi ricorda Goebbels? Insomma, dove ci sposta, scusa. Abbiamo fatto finta di niente, anzi adesso siamo alleati con loro. Abbiamo fatto un governo contro Salvini per permettere a Di Maio di fare il ministro degli esteri. E questo secondo me è un errore. Anzi, dimostra la consapevolezza della debolezza politica, prima che elettorale, della sinistra italiana. Che sempre subalterna qualcosa e a qualcuno. E non sa mai essere se stessa. Non sa mai sposare le idee profonde dell'eresia riformista. E il riformismo è un'eresia. E' un'eresia creativa però. Noi siamo stati per molti anni, fino almeno a 1987, un'eresia creativa. Non eravamo un partito veramente di sinistra. E non eravamo neanche un vero partito socialista. Eravamo un'eresia creativa che metteva insieme idee originali e produttive per l'Italia e per l'Europa. Eravamo un socialismo diverso, particolare. E siamo ancora gelosi di questa particolarità. Solo che non sappiamo farla emergere. Anche tra quei pochi che ci sono rimasti c'è una tendenza sbagliata a tornare al vettero socialismo, al marxismo. A cose che sono morte e sepolte. Oppure alla rassegnazione che bisogna dar ragione a Salvini. Tutte due cose sbagliate. C'è però una nuova generazione trasversale in diversi partiti della sinistra italiana che lei crede che in un futuro possano sedersi a un tavolo e riuscire a creare qualcosa? C'hanno paura della parola socialismo che utilizzino la parola riformismo, la chiamino come vogliono, la cosa, qualsiasi cosa. Sì, ma attenzione perché dietro una parola ci sta una cosa, no? Grau diceva prima la cosa e poi il nome, no? Ti ricordi? Infatti il Partito Comunista per un periodo quando non aveva il nome si chiamava la cosa. La cosa. E dietro il termine socialista ci sta la nostra storia. E quando D'Alema disse che il termine socialista in Italia era diventato impronunciabile, condannava noi all'impronunciabilità, capisci? Qui secondo me invece è centrale il nome. Però non teme che abbia ragione D'Alema? Il nome indica una cosa. Non teme che abbia ragione D'Alema? Purtroppo, eh, sottolinea io. Ma ha ragione, può avere ragione, nel senso che gli può far perdere i voti la parola socialista. Ma noi non possiamo negare che di esserlo stati e di esserlo ancora e di avere il diritto di esserlo, no? E di avere il diritto di difendere una parola che è una storia, che è la nostra storia e che non è affatto impronunciabile. Perché ci siamo noi, qua, ancora vivi, che la pronunciamo. D'accordo. Però, ripeto, in un futuro prossimo, mettiamo fra 10-15 anni, per le sfide che ci aspettano adesso dopo il coronavirus e di ricostruzione della Casa Europea e di una nuova visione economica europea, c'è una nuova classe di dirigente che è in grado di poter superare gli anni Ottanta e di mettersi insieme per lavorare in Italia? Io ancora non la vedo. Non vedo dei leader in grado. Ho pensato che lo potesse essere Renzi, che aveva fatto una grande innovazione in termini del PD, aveva anche rinnovato la classe dirigente, messo da parte certi miti, certi luoghi comuni, anche certe ideologie. Ma se Renzi ha fatto la scissione, perché in quel partito non ci si poteva stare, immagino che sia molto difficile poter convivere con esso. Era molto difficile. Perfino Renzi. Calenda anche. Calenda dice che è liberale socialista. È interessante la cosa. Molto interessante. Calenda ha postato Rosselli qualche giorno fa su Facebook. Socialismo liberale. Sono contento. Però, vedi, fa faticare a emergere nei sondaggi. Ho l'impressione che poi finisca, possa rischiare di finire in nulla una buona idea con Calenda. Perché sono troppo personalizzati. Si parla di Calenda e di Renzi, non di Azione e di Italia Viva, che sono nomi, tra l'altro, azione può avere un connotato comune col vecchio partito di azione. Ma Italia Viva, che dovrebbero fare, chiaro che non lo faranno, un partito del riformismo italiano, del socialismo riformista italiano, collegarsi. Quando noi potremmo dare a loro una storia che loro non hanno? Questo potrebbe essere il nostro contributo. L'unica speranza, forse, è un'implosione. È un'aggregazione nuova. Noi potremmo dare a loro una storia che non hanno, un'identità che non hanno. E loro proseguire questa storia e questa identità e farla marciare verso il futuro. Quindi siamo condenati a aspettare una sorta di implosione del PD sulle proprie contraddizioni, prima di poter ricostruire su quelle macerie? Ma dipende da cosa vogliamo fare. Se vogliamo ricostruire il Becchio Psi non si può fare. Non c'è il PC, non c'è il DC. Si capisce perché deve essere il PC. Se vogliamo costruire un contenitore dentro il quale ci sta la nostra storia, la nostra identità, i nostri programmi, io penso che sia più facile costruirlo oggi con una nuova aggregazione che metta insieme Renzi, Calenda, Labbonino, eccetera, eccetera, piuttosto che dentro il PD. Anche se è un'operazione difficile. Innanzitutto perché Renzi e Calenda non si sopportano. Quindi quando due persone non si sopportano, è difficile che si possano sposare. Devo dire in realtà è più Calenda che non sopporta Renzi piuttosto del contrario perché in genere è lui che fa la polemica con Renzi. Renzi non mi pare che abbia aperto polemiche con Calenda. Ma a volte i matrimoni si fanno anche per interesse. Se ci sarà una legge proporzionale col 5% quando si voterà partiti che vengono sondati al 2, al 3% o vanno verso i suicidi o si mettono insieme. Quindi può darsi che si mettono insieme. E lui non crede che il PD sia destinato a un'implosione di qui a poco? Sulle proprie contraddizioni? Sai, di qui a poco ci sarà l'uscita del coronavirus più che l'esplosione del PD. E penso che non ci debba essere un'altra esplosione di coronavirus. No, sì, no. Però il coronavirus non sarà eterno, no? Parliamo di qui a due anni, tre anni. Oh mamma mia, addirittura. No, pensiamo anche a fasi un po' minori. No, 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 ma non del coronavirus. Cioè nel senso il coronavirus passera molto rapidamente. Noi stiamo cercando di ragionare di più a tre o quattro anni cosa potrà accadere nel campo riformista, insomma. Dunque, lei può reggere il PD in questo modo? C'è un percorso, no? Non è che... Ci sono le elezioni regionali. Mi pare che ci possa essere un recupero degli attuali governatori. Perché nei fasi di difficoltà e di emergenza la gente si aggrega sempre alle persone che ci sono. Penso ad esempio che De Luca possa vincere le elezioni in Campania anche se veniva dato fino a poco tempo fa per perdente. Penso che Emiliano possa vincere le elezioni in Puglia anche se fino a poco tempo fa veniva dichiarato perdente. Poi ci sarà il referendum sulla diminuzione sul taglio dei parlamentari. Noi su questo abbiamo detto no. Probabilmente perderemo. Ma siamo convinti che questo sia un taglio alla democrazia. Io non voglio approfondire il discorso se no diventa troppo lungo. Poi ci sarà l'elezione del Presidente della Repubblica. In mezzo mi pare che ci sia poco tempo per fare le elezioni politiche anticipate perché prima del referendum non si può fare. Sette mesi prima dell'elezione del Presidente della Repubblica c'è il settennato c'è il settennio bianco e quindi non si può fare. Votare dopo l'elezione del Presidente della Repubblica vuol dire che siamo. siamo mi pare difficile fare delle previsioni francamente impossibile come sarà l'economia italiana nel 2021 nel 2022 in che situazione sarà. secondo me l'idea che dovrebbe convincere tutti a fare un passo indietro dovrebbe essere quella di fare un governo di ricostruzione nazionale che metta insieme non le forze politiche ma le energie migliori di questo paese magari diretto o presieduto da un personaggio da una risorsa che noi abbiamo perché non abbiamo avuto il Presidente della BCE potrebbe benissimo guidarlo e che in Parlamento trovi la fiducia se non di tutti della stragrande maggioranza delle forze politiche allora sì che l'Italia può governare il periodo più difficile della propria storia dal dopoguerra ad oggi perché di questo stiamo parlando e forse non è ben chiara la cosa ma avremo milioni di disoccupati avremo attività imprenditoriali artigianali commerciali soprattutto che saranno a chiudere e quindi dovremo governare una fase di emergenza che non sarà di breve periodo molto complicata e difficile con un governo che se resta questo mi sembra un po' debole se non altro per il fatto che è debole nel paese continua a essere debole nel paese non conte che vola nei massimi nei sondaggi come volano nei massimi dei sondaggi anche Macron che ha recuperato 10 punti in questi momenti però attenzione alla storia di Churchill Churchill era al massimo dei sondaggi durante la guerra finisce la guerra ci sono le elezioni due mesi dopo perde le elezioni e le vince Etel il partito laborista quindi oggi il modo di ragionare gli italiani è molto volubile cambia si trasforma velocemente e quindi un governo di unità nazionale direi di ricostruzione un governo della ricostruzione sarebbe utile e sarebbe utile iniziare a lavorare e questo dovrebbero proporlo i socialisti il piccolo partito che ha una grande idea perché i piccoli partiti o hanno delle grandi idee o è meglio che spariscano non possono avere piccole idee i piccoli idee ce l'hanno i grandi partiti i piccoli partiti hanno le grandi idee per legittimare appunto la loro esistenza grazie va bene grazie è stato è stato molto bello noi vi abbiamo ascoltato non c'ero solo io vi abbiamo ascoltato in silenzio perché era era troppo bello da sentire mi pare che la cosa più bella che mi è piaciuta di più è quell'espressione eresia creativa che è quella che dovremmo usare un po' tutti per sopravvivere dopo il coronavirus e non solo politicamente quindi diventeremo un po' tutti figli di questa espressione grazie grazie mille di essere stati con noi grazie grazie davvero grazie davvero ciao 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 ciao